buongiorno amici un salutone dal vostro adobora allora andiamo avanti subito con il libro un corso i miracoli e precisamente con la lezione numero 72 partiamo subito lezione 72 serbare rancori è un attacco al piano di dio per la salvezza mentre abbiamo riconosciuto che il piano dell'ego per la salvezza è l'opposto di quello di dio non abbiamo ancora messo in evidenza che è un attacco attivo al suo piano è un deliberato tentativo di distruggerlo nell'attacco vengono assegnati a dio gli attributi che sono di fatto associati all'ego mentre l'ego sembra assumere gli attributi di dio il desiderio fondamentale dell'ego è sostituire dio infatti l'ego è l'incarnazione fisica di questo desiderio perché è quel desiderio che sembra circondare la mente di un corpo mantenendola separata e sola ed incapace di raggiungere le altre menti se non attraverso il corpo che è stato fatto per imprigionarla il limite della comunicazione non può essere il miglior mezzo per espandere la comunicazione tuttavia l'ego vuole farti credere che lo sia benché qui sia ovvio il tentativo di mantenere le limitazioni che un corpo impone forse non è così evidente perché il perché serbare rancori sia un attacco al piano di dio per la salvezza ma consideriamo il genere di cose per il quale siamo portati a serbare rancori non sono forse sempre associati a qualcosa che il corpo fa una persona dice qualcosa che non ti piace fa qualcosa che che ti dispiace col suo comportamento tradisce i suoi pensieri ostili qui non stai considerando ciò che la persona è al contrario ti preoccupi esclusivamente di ciò che essa fa in uno fa in un corpo stai facendo di più che non riuscire ad aiutarla a liberarsi delle limitazioni del corpo stai cercando attivamente di mantenerla in esso confondendola con esso e giudicandoli una cosa sola qui dio viene attaccato perché se suo figlio è solo un corpo deve esserlo anche lui un creatore completamente dissimile alla sua creazione è inconcepibile se dio è un corpo quale dovrà mai essere il suo piano per la salvezza quale potrebbe essere se non la morte nel cercare di presentarsi come autore della vita e non della morte è un bugiardo e un imbroglione pieno di false promesse ed offre illusioni al posto della verità l'apparente realtà del corpo rende questa visione di dio molto convincente di fatto se il corpo fosse reale sarebbe davvero difficile sfuggire a questa conclusione ed ogni rancore che tu servi insiste sul fatto che il corpo è reale non vede assolutamente ciò che tuo fratello è rafforza la tua convinzione che egli è un corpo e lo condanna per questo e asserisce che la sua salvezza deve essere la morte proiettando quest'attacco su dio e ritenendo responsabile e ritenendolo responsabile di questo in questa arena accuratamente preparata dove animali rabbiosi cercano la preda e non può entrare la compassione l'ego viene a salvarti dio ti ha fatto un corpo molto bene accettiamolo e rallegriamo cene come corpo non permetterti di essere privato di ciò che il corpo offre prendi il poco che puoi dio non ti ha dato nulla il corpo è il tuo solo salvatore è la morte di dio è la tua salvezza questa è la convinzione universale del mondo che vedi alcuni odiano il corpo e cercano di ferirlo e umiliarlo altri amano il corpo e cercano di glorificarlo ed esaltarlo ma fin tanto ma fin tanto che il corpo resta al centro del tuo concetto di te stesso attacchi il piano di dio per la salvezza e serbi i tuoi rancori contro di lui e contro la sua creazione cosicché non puoi udire la voce della verità e darle il benvenuto come amica il salvatore che hai scelto prende invece il suo posto esso è tua amico egli è tuo nemico oggi cercheremo oggi cercheremo di porre fine a questi attacchi insensati alla salvezza cercheremo invece di darle il benvenuto la tua percezione capovolta è stata rovinosa per la tua pace mentale ti sei visto in un corpo ed hai visto la realtà al di fuori di te chiusa fuori dalla tua consapevolezza dalle limitazioni del corpo adesso cercheremo di vedere ciò in modo diverso la luce della verità è in noi dove è stata posta da dio è il corpo che fuori di noi e non ci riguarda essere senza corpo significa essere nel nostro stato naturale riconoscere la luce della verità in noi significa riconoscerci come siamo vedere il nostro sé come separato dal corpo significa porre fine all'attacco al piano di dio per la salvezza e invece accettarlo e ovunque il suo piano verrà accettato sarà già compiuto oggi il nostro obiettivo nei periodi di pratica più lunghi e di e diventare consapevole che il piano di dio per la salvezza è già stato compiuto in noi per raggiungere questo obiettivo dobbiamo sostituire l'attacco con l'accettazione fin tanto che lo attaccheremo non potremmo capire quale sia il piano di dio per noi comunque stiamo attaccando ciò che non riconosciamo adesso cercheremo di lasciare da parte il giudizio e domandare qual è il piano di dio per noi cos'è la salvezza padre io non lo so dimmelo perché io possa capire poi aspetteremo in silenzio la sua risposta abbiamo attaccato il piano di dio per la salvezza senza aspettare di udire cosa fosse abbiamo urlato i nostri rancori a voce così alta che non abbiamo ascoltato la sua voce abbiamo usato i nostri rancori per chiudere gli occhi e le orecchie adesso vogliamo vedere udire e imparare cos'è la salvezza padre chiedi e ti sarà risposto cerca e troverai non chiediamo più all'ego cos'è la salvezza e dove trovarla lo chiediamo alla verità si certo dunque che la risposta sarà vera in considerazione di colui al quale chiedi quando senti che la tua fiducia viene meno e la tua speranza di successo vacilla e se ne va ripeti la tua domanda e la tua richiesta ricordando che stai chiedendo all'infinito creatore dell'infinità che ti ha creato come se stesso cos'è la salvezza padre io non lo so dimmelo perché io possa capire egli risponderà si determinato a udire oggi saranno sufficienti uno o forse due periodi di pratica più corti ogni ora dal momento che saranno in qualche modo più lunghi del solito questi esercizi dovrebbero iniziare con questo serbare rancori è un attacco al piano di dio per la salvezza che io invece lo accetti cos'è la salvezza padre poi attendi per circa un minuto in silenzio preferibilmente ad occhi chiusi e ascolta la sua risposta bene amici e adesso rileggiamo la frase chiave di oggi serbare rancori è un attacco al piano di dio per la salvezza e per questa lezione 72 è tutto amici se volete iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per essere sempre avvisati all'uscita di ogni nuovo video sul canale e come sempre vi ricordo che vi voglio bene e ci vediamo per la lezione numero 73 ciao 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 ciao